Nel derby tutto giallorosso tra Sambiase e Sersale c'era anche l'ex di turno, non so se era l'unico ma sicuramente era un ex che è Renato Mancini, il tecnico del Sersale che ha affrontato il Sambiase da avversario non so l'anno scorso c'è stato pure questo incontro, buonasera mister Buonasera a tutti voi, no subito, l'anno scorso no, sono subentrato subito dopo la partita Sambiase e Sersale Quindi subito dopo, come è stato a affrontare il Sambiase quest'oggi, con quale animo pure è sceso in campo da avversario? Vabbè è un avversario come un altro, anzi ci tengo a precisare, ringraziare la dirigenza per l'accoglienza sono stati dei signori, non avevo dubbi su questo quindi si è giocata una partita molto combattuta 2 a 2 è un risultato giusto alla fine, contento lei? Diciamo che vedo il bicchiere mezzo vuoto relativamente, le spiego il perché le spiego il perché, perché dopo 5 minuti siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione per chiudere la partita almeno ci siamo riusciti e dopo il Sambiase è stato pericoloso su due calci piazzati, due calci d'angolo durante il quale ha colto anche una traversa. Sul finire del tempo, 44esimo, un minuto maledetto per il Cersale, abbiamo subito l'1-1 successivamente secondo tempo abbiamo iniziato con il piglio giusto, abbiamo avuto qualche occasione purtroppo fallita, abbiamo preso anche noi una traversa molto strana perché è venuta su un cross, comunque abbiamo avuto anche la palla per chiudere la partita definitivamente sul 3 a 1 per quanto concerne la contestazione del secondo gol nostro, c'è da dire che il giocatore a terra era il nostro, l'arbitro ha fischiato fallo ma non c'era niente di che, non ha avuto problemi, non è stato soccorso, quindi furbescamente abbiamo battuto palla veloce anche perché non chiedendo la distanza tu hai la possibilità di battere palla veloce, quindi non ci vedo niente di antisportivo da questo punto di vista poi successivamente invece abbiamo preso il 2 a 2 un pochettino da polli perché abbiamo fatto fare tutto al loro attaccante, tutto in tranquillità quindi un vantaggio che si poteva gestire e che non si è riuscito si poteva gestire perché la partita si era incanalata nel miglior modo possibile, purtroppo ci sono stati due infortuni da parte nostra a livello fisico, ho dovuto cambiare i due under e quindi l'unica soluzione tattica che ho potuto apportare alla partita è stato il cambio di Colosimo con l'Audi E l'Audi che è arrivato in settimana, praticamente ancora deve trovare i 90 minuti oppure era già pronto? No, pronto non direi, è una parola grossa è logico perché la partita penso che manchi a tutti, il migliore allenamento penso sia la partita, minuti nelle gambe è logico quindi l'ho preservato per il secondo tempo, ho fatto una trentina di minuti, si è mosso bene e può darci quella maturità che alle volte, anzi spesso sta mancando purtroppo, mi dispiace dirlo ma è così L'esperienza in più in definitiva anche sotto Porto? Sicuramente, sicuramente perché con un po' di esperienza in più avremmo sicuramente gestito meglio questa partita Vincenzo Buonasera, forse l'esperienza comincia ad arrivare, nel senso che oggi avete portato il primo punto da fuori casa qual è la difficoltà rispetto all'anno scorso, non solo organico che è sicuramente diverso nell'organizzare la squadra rispetto all'anno scorso? No, l'anno scorso va bene, è inutile nasconderlo, secondo me il Sersale era una squadra centro-alta classifica, sì una squadra bene o male aveva un attaccante come Angotti che non sto io a parlarne o meno, anzi un grosso in bocca al lupo ad Attilio era una pronta guagligione, non sto io a parlarne ma parlano i numeri, poi avevo Claudio a tempo pieno, avevo gente come Lio C'era un'ossatura di squadra che bene o male già si conosceva, quest'anno abbiamo puntato a ringiovanire la squadra anche per esigenze economiche, ma ciò non toglie che si possa fare comunque un campionato, una salvezza tranquilla si può ottenere, si può ottenere logicamente buttando il sangue, questo è, vendendo gara alla pelle perché partite come oggi e partite come altri siano state precedentemente a questa e alla fine vanno a pesare i punti che ti mancano, questo sì bene mister un po' di agonismo in più dicevi Vincenzo? un po' di agonismo in più, ecco, un po' di scaltretta in più sì, ci vuole, bisogna svestire un po' i panni di giocatori tante volte di giocatori diciamo abbastanza estrosi e mettere un pochettino anche quelli da lavoratore, in questo senso ci vuole, è una categoria dove c'è bisogno di corsa agonismo e testa soprattutto